Sabato notte all'ospedale di Ragusa, una giovane mamma di 23 anni e residente a Marina di Ragusa, ama di origini rumene, è deceduta dopo aver dato alla luce il suo secondo figlio. Era stata ricoverata giovedì scorso, già con alcuni dolori, poi sabato notte è entrata in sala parto. Alle due e mezza il marito è stato comunicato che il piccolo appena venuto alla luce era stato trasferito in terapia intensiva. Il padre, sconvolto, ha raccontato di aver visto solo un attimo il neonato che gli era sembrato cianotico. Poi all'uomo è stato detto che c'erano dei problemi, il piccolo è stato ricoverato in neonatologia. Alle 4 e un quarto i medici hanno comunicato all'uomo che sua moglie era deceduta. La coppia era molto conosciuta e stimata a Santa Croce dove i due lavoravano. Ama era impiegata in un bar della piazza, il Mocambo. Tutti la raccontano come simpatica, allegra, sana, una gran lavoratrice e madre di un bambino di soli tre anni. In queste ore davanti al locale, in un'apposita cassetta, si stanno raccogliendo i soldi per organizzare il viaggio qui in Sicilia e dei genitori della ragazza per assistere ai funerali. La magistratura intanto ha sequestrato la cartella clinica.